Notte in bianco prima degli esami. Sì, sì, ma io tra mezz'ora me ne vado a casa, se no domani non ci si sveglia. D'annunzio, sicuro, perché è ben voluto dal governo. Sì, io scommetto su D'annunzio. Io penso che uscirà a Svevo, perché 100 anni ci si sveglia. Allora, la Costituzione, giravoce D'annunzio, giravoce D'annunzio, avete sentito? D'annunzio, poi D'annunzio piace anche all'attuale governo di centrodestra, l'ho sentito. Abbiamo fatto tante ipotesi con la classe, però pensiamo forse Svevo, probabilmente D'annunzio, Manzoni, comunque speriamo ce la mandi buona. Sicuramente sono i 100 anni, è l'anniversario della coscienza di Zeno, dal 1923 al 2023, quindi sicuramente mi aspetto Svevo, è uno che aspetto. E poi, forse per i temi di attualità, forse la morte della regina Elisabetta, oppure la guerra in Ucraina, no, non lo so. Secondo me esce Svevo, e sì, secondo me esce Svevo, esce Svevo... Manzoni e Svevo. Manzoni e Svevo, top. Io dico che esce Manzoni. Io studiare solo Manzoni, quindi spero che esce Manzoni. La mia speranza è questa, poi si vedrà a qualsiasi cosa.